In alto, nei palazzi, i potenti della terra discutono di una pace che non arriva mai. In basso, tra le case, gli umili della terra subiscono una guerra che non finisce mai. Anche oggi registriamo morti tra i civili ucraini, almeno 5 a Donetsk. Forti esplosioni nella notte a Melitopol. A Bakhmut il solito macello. I russi avanzano palmo a palmo, mentre gli ucraini resistono a oltranza, in trincea. Scene da grande guerra. E dopo un secolo non è cambiato niente, tantomeno l'indifferenza dei capi. Putin continua imperterrito nel suo delirio, mentre Zelensky fa sempre più il condottiero in armi. Anche se qualcuno dell'entourage lascia intendere che sulla Crimea si potrebbe negoziare con Mosca, qualora l'imminente controffensiva di Kiev avesse successo. Il Cremlino respinge immediatamente l'ipotesi, mentre il ministro degli esteri Lavrov vola in Turchia. Le solite schermaglie diplomatiche inconcludenti. Vedremo cosa verrà fuori dall'incontro di von der Leyen e Macron con Xi Jinping a Pechino. Conto su di lei per riportare la Russia alla ragione. Ha appena detto il presidente francese a quello cinese. Ma l'imperatore è concentrato sulla sfida con gli americani. Ha pianificato un nuovo ordine mondiale alternativo a quello occidentale, con la Cina al centro e la Russia come alleato. L'Ucraina, anzi gli ucraini, possono aspettare e crepare.